Fanno saltare in area un bancomat alle poste di Foiano della Chiana, siamo in pieno centro del paese della Val di Chiana. È successo poco dopo la mezzanotte in via Martiri della Libertà, i malviventi si sarebbero introdotti all'interno dell'ufficio postale forzando la porta d'ingresso che presenta evidenti segni di effrazione. Avrebbero utilizzato la stessa tecnica dei colpi messi a segno in altri uffici postali del territorio aretino, ovvero l'utilizzo del gas introdotto nello sportello bancomat per poi innescare l'esplosione avvertita dalle persone che abitano proprio sopra l'ufficio postale. Siamo andati a letto un quarto d'ora prima che succedesse tutto quanto, noi dormiamo dietro e la mamma ha sentito tanto rumore. E ho detto ma non sto questo gran chiasso, stasera dico che è successo e poi un gran boato. Siamo venuti di corsa alla finestra, abbiamo visto la porta aperta, la sirena, l'allarme, però non c'era nessuno. E' portanto fumo e puzzo. Una volta fatto saltare in aria il bancomat hanno rubato le banconote che non si sarebbero macchiate con l'inchiostro del dispositivo antifurto, bottino circa 80 mila euro. I carabinieri della compagnia di Cortona indagano assieme a quelli della stazione di Foiano sarebbe stata avvistata una station wagon mentre si allontanava in direzione della superstrada. Importanti saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza.